Parliamo dell'evento SPS IPC, è la quinta edizione, mi corregho se sbaglio, come Messe Frankfurt, è proprio l'unica fiera di Messe Frankfurt in Italia. Come è andata negli ultimi anni, che prospettive ci sono? Ce ne parli un po'. È una grande soddisfazione avere una fiera in Italia che è diventata in così pochi anni leader di mercato. Noi siamo la fiera dell'automazione industriale e dopo soli tre anni era già diventata quella che è la fiera leader in questo settore. È un settore molto importante per l'Italia perché ovviamente l'Italia è il secondo paese industriale in Europa e quindi chiunque produca qualcosa, chi costruisca macchine o chi come inducerca prodotti o li immagazzini ha bisogno di tutte le tecnologie di automazione. Quindi noi ci rivolgiamo a tutti i settori dell'industria che in Italia sono veramente molti. Abbiamo lavorato sin da subito molto bene con tutte le aziende sia italiane che fanno automazione sia con le multinazionali che hanno delle sedi che in Italia sono leader europee ovviamente, avendo un grande mercato di riferimento. E quindi grazie a loro siamo riusciti a connettere molto bene tutti i settori che a maggio si ritrovano a Parma per un momento di formazione e di informazione. Prevalentemente è una fiera che si rivolge ai tecnici. Noi facciamo delle tavole rotonde oltre alla parte espositiva in cui i tecnici delle varie aziende si confrontano per trovare le migliori soluzioni che possano efficientare la loro produttività in azienda. Come è la scelta di Parma? Come in Germania si è scelta Norimberga perché è un po' il cuore del settore produttivo tedesco dell'automazione dove la Germania è la numero uno al mondo. Noi italiani siamo al secondo posto. Parma, l'Emilia è un po' il cuore di questo. Questo è il motivo della scelta? Sì, ha perfettamente ragione questo perché logisticamente è il cuore dell'industria italiana. È facilmente raggiungibile anche da regioni come la Lombardia, il Veneto e anche dal centro Italia, dalla Toscana e dalle Marche. Noi abbiamo avuto un incremento nell'ultima edizione anche di molte aziende del sud Italia che facilmente riescono a raggiungere una location come Parma che ha una grande accessibilità. La fiera è appena fuori dall'autostrada e tutti i parcheggi sono proprio di fronte all'ingresso della manifestazione in modo che tutti i visitatori si sentano a loro agio e soprattutto comodi per una visita che in generale in Italia non dura più di un giorno.